Paolo ancora di bala, passa in mezzo per Quadrato, attenzione, Quadrato, Quadrato, Quadrato in mezzo, e la rete, Quadrato, il pareggio della Juventus, al minuto numero 42, bella ripresa, 2 a 2, 2 a 2, Juan Quadrato, un colpo da miliardo sul palo lungo, 2 a 2 il punteggio, grandissimo, gol del colombiano, 2 a 2, Juan Quadrato, a tre minuti dal termine, più recupero, all'angolino, Juan Quadrato, un gol stupendo, anche lui sul palo lungo, anche lui, a prendere il tempo, a Samir Andanovic, 2 a 2 il punteggio, ma quindi adesso se la prende con il direttore di gara, perché non c'era nessuno a battere, dal cerchio di centrocampo, forza ragazzi, 3 minuti più recupero, Andanovic, con il destro, in avanti, pallone a campanile, con il petto Candreva, la mette giù Candreva, viene chiuso da Bentancur sul pallone, Bentancur per Di Bala, Di Bala parte, palla al piede, Di Bala, 2 dribbling, Di Bala, si allarga dall'altra parte per Alexandro, Juventus in avanti, Alexandro, alza la testa, Bernardeschi, Bernardeschi ancora un uomo di fronte, ma Federico Bernardeschi, il fallo, calcio di punizione per la Juventus, Brozovic allontana il pallone, gesto di nervosismo, cartellino giallo per Marcello Brozovic, e calcio di punizione per la Juventus, calcio di punizione per la formazione bianconera, per Quadrado, sesto gol stagionale, quinto in campionato, dopo l'assist per i gol di Douglas Costa, questa rete importantissima, punizione per la Juve, con Paolo Di Bala, sul punto di battuta, tutti a saltare dentro, un uomo in barriera per Andalovic, Di Bala, va lui a battere, si attende il fischio di Orsato però, che tarda ad arrivare, ora fischia, Di Bala, il traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, la rete, Iguain, 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 la Juventus è in vantaggio, la Juventus è in vantaggio, la Juventus è in vantaggio, Gonzalo Iguain, Gonzalo Iguain, Gonzalo Iguain, 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2, Iguain, colpo di testa vincente.